L'acquisto delle auto elettriche è uno dei provvedimenti che si inserisce perfettamente nelle nostre politiche in materia di sostenibilità ambientale. I fondi europei sono stati proprio programmati per rispondere concretamente ad alcuni problemi che anche il nostro territorio ha. L'obiettivo è quello di avere un'economia sempre più pulita, quindi ad emissioni sempre più tendenti allo zero. Questo riguarda tutti i settori e riguarda in modo particolare il tema della mobilità. Anche il nuovo programma della Regione Emilia-Romagna per quanto riguarda i fondi europei prevede proprio per la mobilità sostenibile altri 27 milioni di euro. Per noi è fondamentale stimolare la domanda del pubblico proprio come elemento di dimostrazione in questo caso che le auto elettriche funzionano per alimentare una domanda privata e per far in modo che questa possa avere anche una ricaduta in termini di produzione e di occupazione anche sul nostro territorio rispetto ad un prodotto chiaramente green. iscriviti al nostro territorio iscriviti al nostro territorio